Con la processione della Dolorata il 7 aprile, Alghero dà il Via alla Settimana Santa, una celebrazione antica che in città conserva le sue influenze identitarie catalane e la complessità dei rituali fa dell'evento uno dei più importanti in Sardegna per il periodo pasquale. Il programma della manifestazione è stato presentato nei locali dello Qualtè, presenti il sindaco Mario Bruno, il presidente della Fondazione Alghero, Raffaele Sari Bozzolo, il parroco della Cattedrale Don Angelo Cocco, il segretario della Confraternita della Misericordia, Gabriele Catalano. Si rinnova dunque la collaborazione con la Confraternita, la quale sarà responsabile di tutto il rito religioso. Alghero si prepara ad un appuntamento così sentito, ha detto il sindaco Mario Bruno, che diventa un'offerta rivolta a quanti amino avvicinarsi alla nostra città attraverso la cultura e lontano dai mesi dell'affollamento estivo. Per questo la settimana santa di Alghero si conferma passaggio irrinunciabile nella programmazione turistica. Per il venerdì santo sarà confermata la diretta tv in italiano algherese su CatalanTV e streaming via web in Piazza Duomo. La processione sarà accompagnata dalle tradizionali corali algheresi e sarde e dall'associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda per il rito dell'incontro della Domenica di Pasqua.